Signori, Twitch è entrato a Sanremo. Perché? Perché? Perché Sanremo è Sanremo! Ah, ok. Come sempre questo video è sponsorizzato dai nostri amici di Oned e andiamo a vedere il loro super sito. Qua sul sito di Oned, come potete vedere, ci sono tantissime grafiche per le nostre live streaming, dai pack completi alle emote, gli stemmi e tanto altro. Guardate ad esempio questo pack, si chiama SynthRunner. All'interno trovate tantissime grafiche animate e statiche per i vostri canali Twitch. Sicuramente uno dei migliori modi per avere grafiche professionali appena si inizia a streammare. Come vi dicevo, possiamo trovare anche le emote e sono animate. Guardate che belli questi lupi e all'interno del pack ne trovate otto. Mi raccomando, qualunque prodotto di grafica acquistate all'interno del sito di Oned, utilizzate il codice M89-Gamer per ricevere subito lo sconto. Torniamo a noi. Vi ricordate il lontano 2018 quando Ciccio Gamer andò in televisione? Ecco qui qua. È un piacere averti qui, Mirko. Grazie. Mi chiedo a Paolo Guzzanti se sa chi è Mirko Alessandrini. Ma spero di no. No, io non ho. Allora, lui è il dietologo di Jack La Furia. Nel 2016 Ciccio Gamer 89 è stato al centro dello scandalo soprannominato Nutella Gate. Un ragazzo lo ha aggredito colpendone in pieno viso con un cornetto alla Nutella. A mai dire talk, talk sarebbe però, per gli italiani suona malissimo, il mago Forrest e la gialappa se lo presono chiaramente per il culo, non mettendo in evidenza le parti migliori di lui, ma solo usando le clip delle brioche in faccia e quelle dove pesava molti più chili. Insomma, fecero un servizio denigratorio davanti a lui ed è stato davvero vergognoso. La reazione da parte del web fu davvero forte, infatti fecero reaction sull'argomento, tantissimi streamer, tra cui anche Power. Insomma, rimasimo abbastanza interdetti sulla cosa. Che cazzo ho visto. Mamma mia. Ma che cazzo ho visto. Però un po' l'hanno preso molto per il culo, eh. E credevo che i commenti fossero un po' esagerati. Cioè, comunque, loro hanno sempre perculato tutti da... Però un conto è scherzare con i tuoi pari, che capis... Cioè, è un conto è scherzare così, e poi su cargomenti, cioè... No, esatto, è un conto è scherzare su Ciccio che... Perché poi è stato proprio fisicamente messo in mezzo, e con tutti attorno... È una scena da bullismo. Sì, sì, veramente. Non è stato né divertente, ed è stato brutto. Infatti me la sono presa tanto per quella cosa lì, perché ho detto, raga... Cioè, non me la sono presa né con Ciccio né con la Gialappas, ovviamente. Me la sono presa con chi ha detto, sì, sì, vai. Però, dal lontano 2018, dove la televisione si credeva ancora potente di acqua sotto i ponti, ne è passata tanta, uno di questi fiumi si chiama Covid. Oggi abbiamo deciso di compiere un altro passo. La decisione assunta dal governo è quella di chiudere. Bene, questo è il punto del video. La televisione ha capito che i creator non sono persone da contrastare, ma con cui collaborare. Perché chi ne avrà vantaggio sarà ovviamente la televisione in primis e il singolo che viene coinvolto. Mi spiego meglio. Se domani Mamma Rai chiamasse un content creator con 2-3 milioni di iscritti su YouTube, a condurre qualche rubrica dedicata al mondo dei social, streaming, eccetera, è chiaro che il vantaggio sarebbe in primis della Rai stessa, che grazie alla community del creator aumenterebbe gli ascolti, e allo youtuber si aprirebbero diverse porte che altrimenti non avrebbe mai avuto. A piccoli passettini, probabilmente la rilevanza mediatica favorirebbe la categoria intera, ma principalmente è il singolo a trarne vantaggio. Detto ciò, Sanremo ogni anno diventa sempre più social e cerca di coinvolgere creator per aumentare l'audience del programma, che altrimenti verrebbe guardato solamente da persone di una fascia di età maggiore. Come lo fanno? Creando hashtag FantaSanremo, clip su Instagram, TikTok e YouTube. Insomma, sfruttano tutta la potenza social per boostare il programma televisivo. Ad esempio TikTok punta molto sui video creati dai propri utenti sotto l'hashtag Sanremo 2022. I The Jekal quest'anno hanno scelto proprio questa piattaforma per proporre il loro live show stasera a Sanremo, dove raccontano il festival insieme ai loro ospiti. A quanto pare Ciro dei The Jekal è stato inoltre promosso come conduttore del prima festival Sanremo 2022, insieme a Roberta e Paola Di Benedetto, che è decisamente un bel salto per il creator da youtuber a conduttore Rai. E voi direte, ma M cosa c'è di male nel coinvolgere i creator all'interno di programmi televisivi come quelli di Sanremo piuttosto che altri? Sarà pure un vantaggio per tutta la categoria? Assolutamente sì, nella misura in cui però non vieni preso per le visualizzazioni che hai per boostare in qualche modo il Sanremo stesso. E quindi il talento passa in secondo piano. Non è una novità che ci siano dei talenti al mondo che non vengono scovati perché non hanno 100.000 visualizzazioni su YouTube, ma credo che la selezione di Sanremo, nel momento in cui viene proposta, debba andare oltre questo o no? Si debba focalizzare sulla reale bravura di chi partecipa piuttosto che sulla fama che ha nel web? La domanda quindi mi sorge spontanea. Qual è il metro di misura utilizzato da loro per valutare i cantanti? Scrivetemelo pure nei commenti qui sotto, così ne parliamo. La mia riflessione nasce da un dubbio. Non è che il programma seleziona più in base ai numeri che si fanno sul web rispetto alle capacità canore del cantante? Parlo ovviamente della sezione giovani. E non mi sto riferendo in particolar modo a Grimbau o Panetti, anche perché ho ascoltato alcuni loro pezzi e sono davvero interessanti. E poi parlo per gusto personale, anche perché non sono un cantante, quindi figuriamoci. In questo caso la loro fama li ha semplicemente aiutati a venire fuori dal punto di vista artistico, perché da quello che ho capito leggendo è una passione che coltivano da tanto. Quindi il mio ragionamento si discosta dalla loro selezione e va generalizzato. In sostanza sto cercando di mettervi davanti al naso il modus operandi. Faccio un esempio. Se io domani, avendo già un canale, ne apro un altro, e oltre a spingervi tutti a lasciare like e fare visualizzazione attraverso le varie call to action del caso, investo 2000 euro in ads, cioè le pubblicità di YouTube o meta, mi si aprono delle porte verso Sanremo anche se il mio livello di canto è mediocre? Questo è quello che mi rende perplesso. Il successo sul web è pay to win. Posso pagare per sopperire alle mie evidenti lacune di canto ed entrare lo stesso in competizione di alto livello? Così facendo stiamo passando da un pre-social dove era davvero difficile entrare nel mondo dello spettacolo, dovevi avere veramente tanto talento o essere raccomandato, a un post social dove ti basta pagare per essere visto da altri. In pratica muore il concetto di mostro il mio talento e l'algoritmo mi premierà. Ovviamente la questione non è così estrema, ma l'ho posta in quest'ottica proprio per renderla una provocazione e sapere cosa ne pensate di tutto l'argomento. Vedremo nei prossimi anni le visual contare più del talento. Per tornare al discorso selezioni ai due ragazzi che da Twitch sono entrati a Sanremo Giovani, mi hanno spiegato che la prima selezione è anche tra virgolette facile, nel senso che sono una quarantina di ragazzi, ma poi la seconda scremeranno tantissimo, quindi da 40 rimarranno meno di 10. Perciò in bocca al lupo, noi ci vediamo al prossimo video e buon Sanremo a tutti. Guro che non parlerò più di musica, forse. Abbiate pazienza, ma ieri era festa e non volevo affrontare un argomento tecnicamente complesso, quindi ci siamo buttati su due chiacchiere un po' diverse dal solito. Un salutone ad Amadeus. Grazie a tutti.